Oggi parliamo di libri utili a migliorare nel nostro percorso fotografico, un contenuto che mi hanno richiesto un sacco di persone, no scherz, me l'ha chiesto una persona sola, ma il fatto è che siete ancora in pochi, quindi se volete iscrivervi adesso per dare una mano a questo canale è il momento giusto, aspetto i vostri pollici, il bottone è qui sotto. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare, mi occupo di fotografia e siccome ho ricevuto una richiesta a riguardo, oggi vi faccio un contenuto in cui vi parlo di libri fotografici che reputo molto validi per alzare un pochettino l'asticella del nostro gioco fotografico. Prima però vi faccio vedere il mio ultimo acquisto che va chiaramente nella rubrica acquisti inutili, questo come potete vedere è un beauty dish, per carità acquisti inutili, a me piace. Il punto però qual è? Come potete vedere c'è la griglia anido d'ape, guardate che caruccia che è. Il punto qual è? Io ho già un beauty dish, che è quello che uso sempre, quindi lo sapete già com'è fatto. Ho ricomprato tutto quanto perché non trovavo la griglia anido d'ape della misura del mio beauty dish, mannaggia la miseria, e quindi essendo stato io sfrontato e pigro e avendolo comprato senza la griglia quando lo acquistai, e volendo adesso fare degli esperimenti con la griglia mi trovo costretto a ricomprarlo intero, ed ecco qui questa wok enorme con anche la sua griglia anido d'ape. Tuttavia l'ho comprata bianca, quindi mentre quella che sto utilizzando in questo momento è argento nell'interno, quindi argento, luce speculare, bianco, luce diffusa, quindi questa ci dovrebbe dare un effetto diverso. Ovviamente c'è anche il panno da mettere davanti, proprio come quella che sto usando, per andare a diffondere ancora di più la luce. Vediamo com'è. Ok, facciamo un primo esperimento senza questa, poi magari in episodi successivi andremo a vedere tutte le varie combinazioni. Ovviamente come potete vedere con questa griglia montata la luce si diffonde in maniera molto diversa sullo sfondo e quindi lascia più scuro alle mie spalle. Andremo a cercare di capire se è un effetto che ci piace oppure no, fatemelo sapere anche voi nei commenti. Andiamo a incominciare. Il primo libro che vi presento è questo qui, spero che riusciate a vederlo bene. Si chiama Fotografia avanzata, costruire il proprio stile. L'autore è Iago Corazza e adesso vi leggo qualcosina. Noi, come quasi tutte le persone al mondo, siamo dotati della parola. Appena iniziamo a formulare le prime sillabe veniamo affiancati da qualcuno che si occupa di insegnarci i rudimenti del linguaggio e di seguirci fino a quando siamo perfettamente in grado di comunicare. Questa cosa sarebbe molto bella ma purtroppo non è così per tutti. Noi, come quasi tutte le persone al mondo, grazie anche e soprattutto alle ampliate funzioni dei potenti smartphone, siamo ormai tutti dotati di una fotocamera. Ma quando iniziamo a scattare, nessuno si occupa di insegnarci i principi di questo nuovo idioma che è pure diventata in breve tempo una forma di comunicazione universale, sebbene parleremo la lingua delle immagini tutta la vita. Bene, questo fondamentalmente è solo un estratto del trafiletto posteriore che probabilmente è a sua volta estratto dall'introduzione. Questo è un libro abbastanza completo che parla nello specifico di come andare a creare e affinare uno stile fotografico. Quindi è sicuramente rivolto a chi qualcosina sa già fare ma vuole imparare a fare qualcosina di più, rivedere qualcosa, andare a migliorare, soprattutto dal punto di vista non tanto tecnico quanto espressivo. Quindi non si sta a parlare delle basi ma si sta a parlare di come comporre, di come sfruttare a nostro vantaggio determinate situazioni per andare a catturare le nostre immagini con uno stile che ci rappresenti. Quindi una cosa che va costruita nel tempo ovviamente, che non è che viene così subito. È una cosa su cui dobbiamo lavorare un pochino. Il testo è edito da National Geographic, quindi una garanzia. Come potete vedere è un libro bello spesso ed è stracolmo di immagini. Quindi fondamentalmente è un libro fotografico a tutti gli effetti. Troviamo un sacco di esempi di quello che l'autore ci va a raccontare. Secondo me è un'ottima lettura e si imparano tante cose. Si capisce proprio come magari delle foto che abbiamo sempre fatto non raccontano a pieno la scena che abbiamo davanti, non riescono a esprimere quello che vogliamo. Questo secondo me è un ottimo testo per chi sa già fare qualcosina ma vuole andare ad arricchire il racconto che riesce a fare tramite le immagini. L'ultimo è arrivato, l'ho comprato oggi. La tecnica fotografica, il colore, gestione e correzione di Marco Olivotto. Ora vedete il mio beauty dish nuovo montato, riflesso nella copertina lucida. Vi leggo un pezzettino anche qui perché questo è interessante. Marco Olivotto, laureato in fisica, un quarto di secolo di esperienza nel campo della produzione musicale, quindi abbiamo fatto un percorso molto simile, non fosse per l'anagrafica. E infine esperto di colore. In realtà un appassionato di fotografia, curioso e tenace, che un giorno decide di capire i meccanismi della riproduzione del colore a monitor e stampa. In realtà io acquisto questo libro su Amazon e quindi non conosco questo dettaglio al momento dell'acquisto, lo scopro successivamente, ma non fa che colpirmi ulteriormente. Quindi se ho interpretato bene, non si tratta di un professionista del colore, ma si tratta di uno che ha fatto tante cose in vita sua. E questo a me fa sempre ben sperare perché quando hai tante esperienze diverse le metti insieme in un calderone e la ricetta che viene fuori, se l'hai cucinata bene, può regalare soddisfazioni. In questo caso devo dire che il libro non è tanto grande, vedete? È una lettura densa, non vi fate ingannare dalle dimensioni o dalla copertina, se per quello. È una lettura densa. Io ho letto oggi, in un'oretta, ho letto tutto il primo capitolo e ho imparato diverse cose solo nel primo capitolo, delle precisazioni, delle puntualizzazioni su cose che sapevo già, però con dei riferimenti a cose in più che magari non avevo mai approfondito. Quindi si imparano diverse cose e me lo dovrò rileggere e dovrò prendere degli appunti. Per cui è una lettura abbastanza densa da non sottovalutare, però se volete capire esattamente che cos'è il colore e come viene interpretato dalla macchina fotografica, dal computer, dalla stampante, ma anche e soprattutto dai nostri occhi, questa è un'ottima lettura. Momento menzione per questo libro, Nicchie, di Alessandro Grandini che saluto nel caso stesse guardando questo video. Questo è un libro che consiglio a chiunque si voglia cimentare nel microstock, quindi se avete guardato video che ho proposto io su questo argomento e volete approfondire, volete capirne di più su come si fa a stabilire quale tipologia di fotografie caricare per cercare di vendere di più, questo è un libro che mi sento di consigliare. Io devo dire che l'ho comprato su Amazon, l'ho letto, ho anche conosciuto appunto l'autore, quindi siamo entrati in contatto anche per questo perché condividiamo diverse cose. Devo dire che l'ho trovato molto ben fatto, non scontato, scritto bene, attenzione, che questa è una cosa da non sottovalutare perché su Amazon si trova di tutto, no? Ce l'ha qualsiasi e spesso sono scritti malissimo i manuali, magari ci sono dei signori fotografi che scrivono il manuale ma scrivono coi piedi. Questo invece scrive pure bene, quindi preciso, dettagliato, spiega bene, scrive bene, per cui assolutamente lettura consigliata. Passiamo a qualcosa di un pochino più complesso, qui abbiamo Chroma di Nick Funker, spero di pronunciarlo correttamente, perdonatemi, non so neanche di dov'è lui. Questo è un libro che esplora il colore in fotografia e i diversi giochi che possiamo fare con il colore in fotografia. Imparare a lavorare con la luce è una tappa importante nella carriera di ogni fotografo e la capacità di creare luci che si adattino alla propria visione è fondamentale. Molto spesso si parla della luce in termini di qualità e quantità, ma c'è una terza componente importante che influenza pesantemente l'aspetto finale dell'immagine, il colore della luce. Io l'ho trovato interessantissimo, all'interno del volume l'autore va a dimostrare come luci con colorazioni diverse possono portare a risultati completamente inaspettati e molto molto creativi, con cose che francamente io non immaginavo nemmeno fossero possibili, quindi assolutamente lettura straconsigliata. Ovviamente non è per niente una lettura facile, come potete vedere non è grande. Io vi dico che questo libro ce l'ho da un anno e per ora ho letto tre capitoli. È veramente pesante, nel senso che se lo leggi senza capire è inutile. Se vuoi capire ci metti un botto di tempo perché è difficile, ok? E queste sostanzialmente sono le mie letture dell'estate. A questo punto, momento promozionale, vi consiglio un ultimo testo che è fotografia di interni. L'autore non ve lo dico neanche. Questo è il manuale che ho scritto io ormai. Non mi ricordo neanche quando, forse è già passato un annetto. Ed è un libro fondamentalmente fotografico, vedete, è abbastanza grosso. È un libro in cui io vi illustro tutte le tecniche fotografiche di ripresa e di postproduzione che utilizzo per realizzare foto di interni ben fatte. Non sono il più bravo dell'universo, però reputo che la mia fotografia di interni sia a un livello più che decoroso, ecco. E quindi all'interno di questo manuale vi racchiudo tutta la mia esperienza, oltre a tantissime immagini e secondo me avere una gallery con tante immagini è essenziale per capire bene, perché oltre a spiegarvi i concetti vi faccio vedere tantissime immagini realizzate nel corso degli ultimi fondamentalmente cinque anni. Sì, perché fotografia di interni la faccio da un cinque anni, prima facevo altro. Quindi è un condensato di tutto quello che ho fatto in questi ultimi cinque anni e vi faccio vedere proprio come sono venute fuori le cose che ho fatto. E vedendo tanti esempi, sfogliando il manuale e vedendo tutti questi esempi, qualcosa vi rimane in testa. Io sono veramente desolato per il prezzo di copertina, che è molto più alto di quello che personalmente avrei gradito. Il fatto però è che i prezzi su Amazon, lascio il link in descrizione nel caso voleste andarlo a vedere, i prezzi su Amazon sono alti e di recente la piattaforma ha alzato i prezzi della stampa. Non so per quale motivo, sta salendo tutto, salgono i prezzi di tutto, hanno detto ma sì, alziamo i prezzi della stampa pure noi. Questo libro costa secondo me un po' troppo, però io ve l'ho messo online, insomma, chi lo vuole scaricare è lì e se invece non vi interessa andatevi a guardare i miei video sulla fotografia di interni, che grosso modo le cose sono quelle. Solo che nei video non ci sono gli esempi, non ci sono le foto. Bene amici, con questo credo veramente che sia tutto. Fatemi sapere nei commenti se avete qualcos'altro che consigliate, se avete qualche lettura preferita, qualche autore da consigliarmi che magari non conosco. Ne ho tanti altri di libri fotografici e vi ho fatto vedere gli ultimi che ho comprato in ordine temporale, ne ho tanti altri di là. Se vi interessa l'argomento fatemelo sapere, ne parliamo anche in un capitolo successivo. Invece se siete in pochissimi che leggono parimenti fatemelo sapere, così non proporrò mai più niente di scritto. Detto questo io non mi voglio dilungare oltre, per cui vi auguro buona lettura e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie per la visione!